Una università in un territorio contribuisce al suo sviluppo economico, sociale e culturale, tanto più se l'Ateneo è efficiente, quindi in grado di stimolare la produzione di nuove idee e nuove opportunità. In tal senso l'Università di Nuoro deve assolutamente crescere, deve crescere adeguandosi ad una realtà socio-economica che deve essere rilanciata anche in un'ottica del progetto Einstein Telescope. Il progetto Einstein Telescope è un'opportunità imperdibile per lo sviluppo del nuorese, ma per spuntarla sul piano internazionale è fondamentale il supporto di un'Università di Nuoro che sia attrattiva, sempre più indipendente e incentrata sulle discipline STEM. Ne è convinto il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, che questa mattina ha organizzato un incontro, secondo le sue parole, giustificato dalla necessità di dare risposta all'opinione pubblica e nel solco delle parole spese alcune settimane fa dall'ex presidente della regione, Angelo Roic, che ha auspicato un freno alla deriva di un inuro in nome della valorizzazione del territorio e al di là della Cherei Consorzio Fondazione. Presenti al tavolo, oltre al commissario liquidatore del Consorzio Uninuro, Giovanni Pina Parpaglia, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, l'amministratore straordinario della provincia di Nuoro, Costantino Tidu, il rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, è un rappresentante dell'Università di Sassari. L'università si deve rendere sempre più autonoma e in tal senso questo tavolo di oggi ha avviato un percorso di sinergia istituzionale tra il comune di Nuoro, la provincia, la regione e le due università di Sassari e Cagliari. È un percorso che la renda sempre più autonoma e le consenta di avere fin da subito un dipartimento di fisica e quindi soprattutto di partecipare poi ad un bando che ha emanato il Ministero dell'Università per finanziamenti necessari a rendere appetibile internazionalmente questa università e la formazione e la ricerca che si farà su questo territorio grazie sempre anche al progetto Einstein Telescope.